Due anni fa la Corte d'Appello di Caltanissetta cambiò linea rispetto alla pronuncia di primo grado, riconoscendo il gruppo dei Trubia come un'organizzazione mafiosa capace di controllare le aree rurali della città, imponendo un quasi esclusivo monopolio nella gestione dello smaltimento della plastica e nel settore delle guardie agnie. Vennero pronunciate pesanti condanne e il prossimo giugno tutti gli imputati attenderanno la pronuncia della Corte di Cassazione. E' stato fissato il giudizio dopo i ricorsi presentati dai legali di difesa. In appello vennero decisi 14 anni e 10 mesi di reclusione per Vincenzo Trubia, 11 anni per Davide Trubia e Ruggero Biundo, 10 anni e 10 mesi per Rosario Trubia del 1990, 10 anni e 3 mesi per Nunzio Trubia, 8 anni e 11 mesi per Luca Trubia e Simone Trubia, 8 anni e 9 mesi per Rosario Caruso, un anno di reclusione infine a Rosario Trubia del 1989. Il collegio penale del Tribunale di Igella in primo grado aveva escluso l'esistenza di un gruppo criminale, emettendo la condanna solo in relazionale a metodo mafioso adottato per escludere ogni concorrenza per il controllo delle campagne locali. I difensori di tutti gli imputati, gli avvocati Flavio Sinatra, Nicoletta Cauchi, Carmelo Tucci e Cristina Alfieri hanno presentato i ricorsi e continuano a respingere la tesi che collega i Trubia alla criminalità organizzata. Tutti gli imputati vennero coinvolti nell'indagine antimafia a Redi Vivi, partita dopo le segnalazioni diventate denunce giunte da alcuni operatori nel settore della raccolta della plastica. Nei precedenti gradi di giudizio erano parti civili con il legale Giovanni Brucia.